Del resto devo far notare che questo governo in 100 giorni ha fatto quello che altri non hanno fatto. Abbiamo una norma che introduce l'obbligo della definizione dei livelli essenziali di prestazioni. Per 5 anni ho sentito dire che l'autonomia non si può fare perché non ci sono i livelli essenziali di prestazioni, questo governo li ha resi obbligatori. E dall'altro adesso il fatto che si parli ad ogni piesso spinto della legge di attuazione dell'autonomia significa che qualcuno l'ha scritta e l'ha già depositata. Quindi resto fiducioso, certo è che i compiti per caso ormai li abbiamo fatti. Se dovesse chiedermi cosa c'è ancora da fare dico attendere che il governo si decida.